Apocalisse 21 e 22 E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cortoglio né grido né fatica, poiché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse, ecco io faccio tutte le cose nuove, poi mi disse, scrivi perché queste parole sono veraci e fedeli, e mi disse ancora, è fatto, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio è la fine, a chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita, chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Ma per ricordarti, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri, e tutti i bugiati, la loro parte sarà nello stagno che arte con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Poi venne da me uno dei sette angeli, che aveva le sette poppe, piene delle ultime sette piaghe, e parlò con me, dicendo, vieni ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello, e mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte, e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, avendo la gloria di Dio, e il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro, trasparente come cristallo. Essa aveva un grande ed alto muro, aveva dodici porte, e alle porte dodici angeli, e su di esse dei nomi scritti, che sono i nomi delle dodici tribù, dei figli di Israele. A Oriente vi erano tre porte, a Settentrione tre porte, a Mezzogiorno tre porte, e ad Occidente tre porte. Il muro della città aveva dodici fondamenti, e su quelli erano i dodici nomi, dei dodici apostoli dell'agnello. E colui che parlava con me aveva una canna d'oro, per misurare la città, le sue porte e il suo muro. La città era a forma quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misura la città, con la canna, ed era di dodici mila stadi. La sua lunghezza, larghezza e altezza erano uguali. Misura anche il muro, ed era di centoquarantaquattro cubiti, a misura di uomo, cioè d'angelo. E la costruzione del suo muro era di diaspro, e la città era di oro puro, simile a cristallo puro. E le fondamenta del muro, della città, erano ad ordine di ogni pietra preziosa. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sartonico, il sesto di sartio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio e il decimo di crisopazio, l'undicesimo di un giocinto e il dodicesimo di ametista. E le dodici porte erano dodici perle, ciascuna delle porte era fatta di una sola perla. E la piazza della città era di oro puro, come di cristallo trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno del sole né della luna che risplendano in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è il suo luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce e il re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. Le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché là non vi sarà più notte. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E nulla di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume c'era l'albero della vita, che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E non ci sarà più alcuna maledizione. In essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi serpi lo serviranno. Ed essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. E là non ci sarà notte, e non avranno bisogno di luce e di lampada, né di luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà, ed essi renderanno nei secoli dei secoli. Poi mi disse, queste parole sono fedeli e veraci, e il Signore Dio dei Santi Profeti ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi serpi le cose che devono avvenire tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. E io, Giovanni, sono colui che ho visto e udito queste cose. Dopo averlo udito e viste, catti per adorare davanti ai piedi dell'angelo, che mi aveva mostrato queste cose. Ma egli mi disse, guardati dal farlo, perché io sono un conservo tuo e dei tuoi profeti, e dei tuoi fratelli profeti, e di coloro che custodiscono le parole di questo libro. Adora a Dio. Poi mi disse, non sigillare la parola della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto, continui ad essere ingiusto. Chi è immondo, continui ad essere immondo. Chi è giusto, continui a praticare la giustizia. E chi è santo, continui a santificarsi. Ecco, io vengo presto, e il mio premio è con me, per rendere ad ognuno secondo ciò che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. Beati quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti, per avere diritto all'albero della vita, e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama, le pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la docente stella del mattino. E lo spirito e la sposa dicono, Io dichiaro ad ognuno che ho delle parole della profezia di questo libro, che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita e dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro. Colui che testimonia queste cose dice, Sì, io vengo presto. Amen. Sì, vieni, Signore Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Signore sia ladato.